Con ogni probabilità è stato il no al lavoro esterno al carcere a far maturare in Dante di Silvestre l'idea di farla finita. Allorquando giovedì gli è stato notificato il provvedimento con cui l'ufficio di sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di ammissione al lavoro esterno al carcere. Da quel momento i pensieri del 64enne caldaista di Mosciano che scontavano a condanna 11 anni e 6 mesi per aver assassinato un uomo al culmine di una lite stradale sono piombati nel baratro. Di Silvestre si è tolto la vita nel giorno del suo 64esimo compleanno nel cortile del carcere di Castronio con una corda trovata nella cassetta degli attrezzi che poteva utilizzare visto che da tempo era stato ammesso a fare lavori nella casa circondariale. Prima però ha scritto una lettera ai familiari e ha telefonato a casa. Il PM di turno Laura Colica ha aperto un fascicolo a carico di gnoti e ha disposto l'autopsia affidata all'anatomo patologo Giuseppe Sciarra. Nel giugno del 2016 di Silvestre venne arrestato dopo aver accoltellato ucciso l'imprenditore informatico 41enne di Giulianova Paolo Cialini al termine di un diverbio scoppiato per motivi stradali tra i due che non si erano mai visti fino a quel drammatico momento. La lite e poi l'omicidio avvenne all'angolo fra via Leorsini e via Verdi a Giulianova davanti agli occhi della figlioletta della vittima, una bimba di sei anni rimasta nell'auto del papà e unica testimone di quanto accaduto. Secondo l'avvocato di Silvestre Gennaro Lettieri, che lo ha assistito in tutti i tre gradi di giudizio, l'uomo era nelle condizioni di pena di poter godere della missione al lavoro esterno. L'avvocato sostiene che la decisione dell'ufficio di sorveglianza non è comprensibile a suo modo di vedere perché di Silvestre era totalmente incensurato al momento dell'omicidio e oltretutto aveva dimostrato di essere un detenuto modello. Restano pertanto da chiarire le ragioni che hanno impedito di usufruire, dice ancora Lettieri, del permesso premio che gli era stato già concesso a luglio scorso dall'ufficio di sorveglianza e soprattutto le ragioni del rigetto del lavoro esterno che hanno determinato l'estremo gesto.